Vennita di prodotti non conformi agli standard di sicurezza riportanti segni mendaci, contraffazioni, abusivismo commerciale, tutti fenomeni che solitamente registrano picchi verso l'alto in corrispondenza di particolari ricorrenze e festività commerciali come San Valentino e il periodo di Carnevale. E l'anno 2019, stando ai risultati ottenuti dalle fiamme gialle, non fa eccezione. Nel mese di febbraio e nei primi giorni del mese di marzo, infatti nel corso di 700 controlli eseguiti su tutto il territorio nazionale sono stati sequestrati oltre 23 milioni e 600 mila articoli contraffatti o non sicuri. Si tratta della maggior parte dei casi di maschere, di costumi, di giocattoli ed oggetti di bigiotteria. Il comando provinciale di Frosinone, a seguito di mirati controlli eseguiti sia su strada che presso le attività commerciali nei comuni di Frosinone, Alatri, Sora, Paliano e Arce, ha sottoposto a sequestro amministrativo 46 mila 550 prodotti, maschere e accessori di carnevale, oggetti regalo per San Valentino non conformi alle prescrizioni del codice del consumo in quanto privi dei contenuti minimi delle informazioni per il consumatore finale, nonché a sequestro penale di 80 capi di abbigliamento e accessori contraffatti, recanti segni mendaci, in violazione agli articoli 474 e 517 del codice penale, nel corso dei controlli inoltre è stato individuato un venditore abusivo, vale a dire una persona che non ha mai richiesto l'autorizzazione prevista dalla normativa commerciale di pubblica sicurezza e che non ha comunicato al fisco l'avvio della propria attività e non ha installato il misuratore fiscale. L'intensificazione dell'attività della Guardia di Finanza a contrasto degli illeciti economico-finanziari connessi al commercio di prodotti non sicuri e trafatti persegue un nuplice obiettivo salvaguardare l'economia legale e gli imprenditori onesti cui si affianca l'imprescindibile esigenza di tutelare la salute e la sicurezza dei consumatori, soprattutto di quelli più piccoli.